... Penso che Wikipedia sia veramente molto importante, è una grandissima forma di democrazia dove l'utente, sia attivo che passivo, cioè che può solamente leggere o anche aggiornarla, possa dare tantissime informazioni e alla portata di tutti. Credo che però ci devono essere grandi controlli perché al tempo stesso ci possa essere un'informazione sbagliata, quindi bisogna andare avanti in questo modo, cioè aprire il più possibile a più persone la possibilità di conoscere i dati, ma al tempo stesso verificare in modo preciso tutta l'informazione. Il board di Wikipedia è proprio dimostrazione di questa democrazia, perché ha scelto un piccolo comune montano come Esinolario rispetto di candidature come Manila o Atlantic City.